Musica Approvata con i voti del gruppo proponente, la mozione è presentata dalla consigliera Anna Paris per rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento a bambine e bambini nati o cresciuti in Italia, d'ottenersi mediante lo Iuscole. Hanno votato a favore PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il gruppo misto si è astenuto. Il risultato è stato quello che mi aspettavo, ovvero le opposizioni hanno votato contro a questa mozione mentre abbiamo avuto sia Italia Viva che il Movimento 5 Stelle, fra l'altro la sua consigliera Noferi ha firmato la mozione e che hanno votato favorevolmente. Quindi non è stata una sorpresa, anche se nasce tutta questa mozione dal dibattito di quest'estate, dalle parole dell'Onorevole Vice Presidente Tajani che dalle sue parole era evidente la scelta di portare avanti, la volontà di voler portare avanti lo Iuscole come possibilità per l'acquisizione del diritto di cittadinanza per i minori, vero Iuscole 5 anni, sicuramente cultura. Invece vediamo oggi in aula che l'esponente di Forza Italia vota contro proponendo, dicendo che allora ci sarà una proposta di Forza Italia a livello di Parlamento, ma leggiamo pure dalla stampa che sembra che forse nel 25, insomma un'opportunità persa. Noi insistiamo perché i tempi sono cambiati rispetto al 1992, la normativa che attualmente abbiamo in vigore, sono più di 30 anni e l'Italia è molto cambiata. Il Partito Democratico è per qualcosa di ben più incisivo dello Iuscole, noi saremo per lo Ius soli, e cioè tutti i cittadini e le cittadine nati sul territorio nazionale debbono avere la cittadinanza. Questo è un orizzonte da raggiungere, è un obiettivo da raggiungere e di là da venire. Intanto però si potrebbe procedere all'approvazione dello Ius su scuole, cioè il riconoscimento della cittadinanza che si basa sull'aver trascorso un certo numero di anni nel percorso di formazione nelle scuole italiane. L'aver bocciato l'emendamento che avrebbe consentito in Parlamento di inserire questa novità, ci è sembrato un segnale davvero negativo a tanti giovani cittadini e cittadine. Noi ci preoccupiamo dell'integrazione e tutti a destra e a sinistra parlano di necessità di integrare coloro che decidono di venire a vivere per tante ragioni, a volte necessitati, sul nostro suolo nazionale. E invece che messaggio mandiamo? Noi in questo modo, dico io, disintegriamo ciò che sarebbe già integrato, perché un ragazzino, una ragazzina che da 10 anni frequenta le nostre scuole, da 5-6 anni frequenta le nostre scuole, non lo capisce perché è considerato uno straniero. Noi siamo fortemente a favore, già nel 2016 c'è una nostra proposta di legge, per noi un ragazzo che cresce in Italia, che studia in Italia, che fa sport in Italia, che va a scuola in Italia, che vive le nostre esperienze, le nostre abitudini, i nostri costumi, è un cittadino italiano, lo è di fatto e come tale va riconosciuta. L'Italia oggi è il paese più lento da modernizzare i propri processi anche culturali. Nell'Unione Europea sono pochissimi gli stati che comportano la presenza, per esempio, di 10 anni per avere la cittadinanza, per costruire una pratica, ma non fanno distinguo sui ragazzi, sui giovani. Le Olimpiadi, i ragazzi bellissimi di colore che hanno vinto tantissime medaglie, ci hanno dimostrato che c'è un'Italia, una voglia del nostro paese, un attaccamento in alcuni casi ancora superiore a chi magari c'è nato, non c'è neanche vissuto, quindi noi siamo fortemente a favore. Io credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. dare la cittadinanza ai ragazzi che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un paese in cui si vive. Niente può fare meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. Giuseppe Scole, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo. Probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico che negli ultimi dieci anni, partecipando alla vita governativa di questo paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, la mozione per sostenere la candidatura della Toscana al turno europeo 2040 dei giochi olimpici e paralimpici. L'atto, presentato da Italia Viva, primo firmatario il capogruppo Stefano Scaramelli, è passato con 31 voti favorevoli, PD, Lega, Fratelli d'Italia, Italia Viva, Forza Italia, Gruppo Misto e un voto contrario, quello del Movimento 5 Stelle. Alla Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040, il Consiglio regionale con una larga intesa e ringrazio ha votato a favore alla mia mozione che chiede che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del Senatore Renzi e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, le nostre strade, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti, il sogno che sembrava veramente un'illusione. Credo che le Olimpiadi siano una grandissima occasione come tutti i grandi eventi sportivi sia per lo sviluppo infrastrutturale, per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e io dico anche di crescita della cultura sportiva di un paese. Io, francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi dell'era moderna, come si dice, a cui sono più legato e che, a mio modo di vedere, sono un modello per il lascito che hanno dato alla città che l'ho spiegato è Barcellona 92, una città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. È ovvio che la strada è lunga, è difficile, che abbiamo una carta olimpica che parla di città ospitante, che le città che hanno visto i cinque cerchi, basta vedere le ultime, si parla di megalopoli, Parigi, Tokyo, Rio de Janeiro, Londra, Pechino, bisogna risalire ad Atene per avere una città a dimensione, per quanto sia sempre una capitale, sotto i 10 milioni di abitanti. Detto questo, credo che sia sbagliato per la politica rinunciare alla costruzione della candidatura olimpica, rinunciare al perseguimento del sogno olimpico. Bisogna provarci. Intanto il concetto di olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato. Tenete presente che le prossime olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra Lombardia e il Veneto. Le olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso, quasi quanto la Toscana. E quindi noi possiamo lanciare le olimpiadi in Toscana, proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi. Non c'è più il concetto delle olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscane. Pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare, a Piombino, davanti a Livorno, nella nostra strepitosa e meravigliosa costa, sull'isola d'Elba, utilizzando le nostre colline, proprio come contesto, come palcoscenico all'interno del quale poter fare questi giochi olimpici. Ovviamente, per quanto mi riguarda, lo vedo come un sogno e una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Nel 2040, devo decidere io oggi che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò dalla televisione, anche se fossero come potrebbe essere nella mia bella Maremma le parti di canottaggio o di surf. Comunque, a parte la battuta, è un'illusione. È un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti, perché sarebbe una bella cosa e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi, perché possa verificarsi. Io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la regione toscana, che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone, come sono le Olimpiadi. Tant'è che mancano le infrastrutture, mancano gli stradi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture. Per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario. Il festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso il Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, l'Assessore di Istruzione e Cultura Lara Pieri e il Direttore Scientifico del Festival Francesco Marino. Montepulciano in questi anni, la Val di Chiana in generale, ci ha offerto tante iniziative culturali importanti. Questo ne è un bellissimo esempio. Ormai sette anni, il Palazzo del Capitano in Piazza Grande a farlo da cornice, insomma un luogo in cui confrontarsi e in cui anche riuscire a stare sui temi più di frontiera. Il tema di quest'anno, il tema della complessità, non è un tema banale. In un mondo come quello che viviamo, le questioni che sembrano più semplici invece sono molto complesse e la capacità di saper leggere la complessità può aiutare a costruire un mondo migliore. Quindi un'iniziativa come questa, che coinvolgerà non soltanto le cittadine e i cittadini di Montepulciano, ma ben oltre, svolge una funzione importante anche nella definizione della Toscana del domani. Quindi mi raccomando, partecipate in tanti, saranno quattro giorni belli densi di appuntamenti. Un evento sicuramente molto importante, motivo di grande soddisfazione che il festival sia giunto alla settima edizione, di cui la terza qui è proprio a Montepulciano. Motivo di soddisfazione perché Montepulciano, oltre che continuare a proporre importanti eventi culturali, insomma di rilevanza importante, chiaramente anche attrattiva di eventi sempre di grande spessore. In questo caso non solo per gli argomenti, i temi che vengono trattati, ma anche la possibilità di partecipare all'exio magistralis, a tavole rotonde, laboratori, insieme a personalità importanti del mondo accademico, della cultura, dell'arte, della storia. Per noi l'apprendimento continuo rappresenta sicuramente un elemento importante per stare al passo anche con il mondo che cambia. Continuiamo a lavorare sul turismo in stretta connessione con la cultura, per stimolare sicuramente un'offerta turistica e culturale di elevato livello, ma anche stimolare la partecipazione da parte dei nostri residenti. Quindi un evento che va nella direzione della nostra comunità locale, ma anche in favore dei nostri residenti. Montepulciano continua ad investire in iniziative di grande valore culturale per permettere alla propria cittadinanza di crescere, di poter approfondire tematiche per migliorarsi come persone, perché poi la cultura serve anche a questo, ad una crescita continua e a un miglioramento. Per un miglioramento sociale, perché poi si investe nella società. Abbiamo messo in relazione più soggetti, c'è l'università, c'è il comune, ci sono le scuole, parteciperanno come fruttori gli stessi studenti delle scuole poliziane, quindi che assisteranno ai seminari, alle lezio magistralis, a tutto quello che Maestri Fuori Classe, quindi il Festival dell'Apprendimento Continuo, permette di realizzare in questi giorni, da giovedì a domenica, dal 26 al 29 settembre. Il Festival è un insieme di incontri, di lezio magistralis, laboratori, seminari e una tavola rotonda. Il tema quest'anno è nella complessità, dove si sottintende vivere, lavorare nella complessità. Quindi noi prendiamo i due aspetti del vivere e del lavorare all'interno di un mondo che è sempre più complesso, è sempre più articolato e che necessita quindi di una maggiore capacità di lettura, di interpretazione, di collegamenti, di nessi, per capire la realtà e immaginare meglio quello che può essere il nostro futuro.